Benvenuti nel nostro canale. Dopo le festività natalizie, è normale sentirsi un po' appesantiti. Oggi vi guideremo su come affrontare i giorni post-feste, quando ci si è concessi qualche stravizio culinario in più del solito. Pronti a iniziare il percorso verso il benessere? Prima di tutto, sorridete. La positività è la chiave. Accettate che qualche stravizio abbia fatto parte del divertimento natalizio. Un sorriso sul volto vi aiuterà a iniziare con il piede giusto. Una delle prime cose da fare è rifornire il frigorifero con cibi salutari. Verdure fresche, frutta e opzioni proteiche magre saranno i vostri migliori alleati per ritrovare l'equilibrio. L'acqua è il vostro miglior amico. Bevetene a sufficienza per aiutare il corpo a liberarsi dalle tossine accumulate durante i giorni di festa. Aggiungete qualche fetta di limone per un tocco di freschezza. Niente fretta. Riprendere l'attività fisica gradualmente è essenziale. Una passeggiata leggera o qualche minuto di stretching vi aiuteranno a rimettervi in moto senza stressare il corpo. Prima di continuare, ti invito a mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere le ultime novità su alimentazione, benessere e cucina salutare. Ora torniamo al nostro video. Preparate pasti leggeri e bilanciati. Optate per porzioni più piccole e integrate cibi nutrienti. Un mix di proteine, carboidrati integrali e verdure farà miracoli. Non sottovalutate l'importanza del sonno. Un riposo adeguato aiuterà il vostro corpo a recuperare e ad affrontare al meglio la giornata successiva. Create una routine serale rilassante. Concediti del tempo per la crescita mentale. La meditazione e le pratiche di respirazione profonda possono aiutarti a ritrovare il tuo equilibrio interiore. Dedica qualche minuto al giorno per riconnetterti con te stesso. Niente è più motivante che condividere i tuoi obiettivi con gli amici. Organizza attività all'aperto, come una passeggiata o una sessione di allenamento leggero insieme. L'appoggio sociale fa la differenza. Rinnova la tua routine di allenamento provando nuove attività. Potrebbe essere yoga, ciclismo o escursioni. Trovare un'attività fisica che ami renderà il processo di tornare in forma più divertente. Il periodo post-fest può essere stressante. Trova metodi che funzionino per te nel gestire lo stress, come la lettura, l'arte o ascoltare musica rilassante. Mantenere l'equilibrio emotivo è essenziale per la tua salute complessiva. Ecco a voi alcuni consigli per affrontare i giorni dopo le festività. Ricordate, la chiave è la gradualità e la gentilezza verso voi stessi. Se avete suggerimenti da condividere, lasciateceli nei commenti. Vi invitiamo a dare un'occhiata alla descrizione del video. Troverete il link al nostro negozio, dove è disponibile una vasta selezione di prodotti, tra cui grembiuli divertenti, tazze da tè, shop e bag funzionali e tanto altro per il benessere. Utilizzate il codice sconto star bene 10 durante il check-out e affrettatevi, l'offerta scade presto. Non dimenticare mai l'importanza di una dieta varia e bilanciata per mantenere la tua salute al massimo. Prenditi cura del tuo benessere. Scopri i migliori alimenti per una vita sana. Clicca qui per saperne di più. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.